ando hai visto wifi? si 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 blocca ogni tanto, e lascia se dove stai? dove stai? su una casa di bollino mamma mia, wifi, bolletto, vaga, che Antonio deve fare questo no, sono calignami, faccio wifi, calignami, subito a me ti piace tanto che è finita? eh, vai giù a me lo fa, tutto finisce io ancora non ho realizzato questa cosa, secondo me dalla settimana, dal mercoledì ci renderemo conto che ma che dice? tanto, capi? ma che dice quello da dietro? non si sente niente, che sta dicendo? vabbè, lascialo stare io non me ne sono ancora reso conto questa cosa che è finita, magari sentiremo il vuoto nelle prossime settimane il vuoto? non se ne è reso ancora conto, praticamente poi senterà il vuoto nelle prossime settimane no 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 no